Tutte le gare sono difficili e tutte le squadre cercano punti, quindi noi sappiamo quello che dobbiamo fare e adesso stiamo preparando la partita e cerchiamo di mettere il massimo impegno e fare la nostra partita secondo le nostre caratteristiche. Hanno giocatori importanti e hanno una classifica che non rispecchia le qualità della loro squadra, quindi sappiamo che dobbiamo fare molta attenzione e che dobbiamo metterla sulle nostre qualità che sono sempre la corsa e l'intensità e quindi sono le nostre armi migliori e dobbiamo cercare sempre di sfruttarle. All'andata dopo la partita con l'Avellino abbiamo svoltato sia dal punto di vista del gioco e di conseguenza insomma anche dal punto di vista dei risultati e adesso noi siamo in un buon momento di forma sia mentale che fisica, nonostante i quattro pareggi alcuni pensassero che non stavamo bene a livello fisico invece stavamo bene, chi vede le partite insomma se ne accorge e quindi noi dobbiamo semplicemente continuare come stiamo facendo mettendoci il massimo impegno. Quindi adesso pensiamo a sabato e poi alla pesantezza delle partite singole ci penseremo più avanti. Sì, noi sicuramente siamo una squadra in cui tutti gli undici che sono in campo, cioè tutti i dieci quei giocatori di movimento collaborano nella fase difensiva e questo sicuramente è il motivo principale per il quale prendiamo pochi gol quindi gran parte del merito va a chi sta davanti insomma alla linea difensiva, ai centrocampisti e agli attaccanti. No, sto bene, sto bene, ho recuperato quindi sono a posto insomma ho anche giocato tutta la partita quindi sono a posto.